Aveva appena 59 anni, era da sempre residente nel quartiere Iapigia, la vittima numero 700 della Fibronit. L'ex fabbrica che realizzava prodotti in amianto, pur non esistendo più ormai dal 2018, continua a portarsi dietro la sua scia di malati, spesso come in questo caso con la peggiore delle conseguenze. Dobbiamo ringraziare i signori dell'amianto, ha fatto sapere la sorella del cittadino scomparso, distrutta dal dolore. Già nelle scorse settimane i familiari si erano rivolti al comitato Fibronit, ma purtroppo ancora una volta è stato necessario aggiornare la lista raccolta dall'associazione familiari vittime dell'amianto di Bari. Nicola Brescia, tra gli attivisti che più hanno seguito la vicenda, ha reso nota la notizia attraverso un post sulla sua baccheca Facebook. La cosa più drammatica in questo momento è scoprire che sono i giovani che vengono maggiormente colpiti, che sono quelli poi che erano ragazzini ai tempi dell'attività della fabbrica, che considerando la lunga incubazione che può avere il mesotelioma, oggi poi vengono fuori i danni prodotti quando appunto erano ragazzini, quando erano adolescenti. Nel frattempo si dovrà continuare a lavorare ancora sul completamento del Parco della Rinascita che dovrebbe vedere la luce entro il 2026. Il comitato da tempo ha lanciato una proposta per utilizzare al meglio quello spazio a beneficio delle persone esposte all'amianto, non solo a Bari ma in tutta la Puglia in assenza di un centro dedicato. Perché la rinascita sia autentica, sia completa, è necessario che trovi spazio, la possibilità di monitorare gli ex esposti, trovare uno spazio dove poter inserire un poliambulatorio per anticipare l'eventuale insorgenza delle patologie. Purtroppo a Bari non c'è questo, non c'è in Puglia, non solo a Bari, quindi potrebbe diventare un polo importante non solo per Bari ma anche per altre città della Puglia come Taranto, come Brindisi che vivono il problema dell'amianto esattamente come Bari.